Ehi, come butta, Elliot? Dai, abbracciami. Mi dispiace tanto perché ero il giuro. Grazie, grazie. Dov'è tua zia? In garage. Chi è? Beh, lui è dove? La mia guardia del corpo. No, scherzi. Ti sei fatto la guardia del corpo. Wow, sbaglio oppure no? La gente si beve tutto, ormai. Ciao, zio Vittor. Elliot, come te la passi? Bene. Mi alzerei, ma la mia schiena mi sta uccidendo. Tranquillo, so che vuol dire. Guardate chi c'è. Elliot. Elliot. Ciao. Vieni qui. Dammi un bacio. Vieni. Come stai? Bene, grazie. Quello è... Tu va... Tu va a qualcosa. Elliot si è... Ho fatto la guardia del corpo. Mmm. Scusate. Scusate. Scusate.